Ma certamente l'Italia condivide la necessità che gli europei prendano in mano il proprio futuro. Le sfide globali lo impongono. Credo che negli ultimi mesi, già due mesi fa con gli anniversari dei trattati di Roma, ma anche nell'ultimo G7, sia emersa con una certa chiarezza una sintonia tra i diversi Paesi europei nel contesto internazionale. Questo naturalmente non toglie nulla all'importanza dei legami transatlantici e dell'alleanza con gli Stati Uniti, ma l'importanza che noi diamo a questi legami non può farci rinunciare a principi fondamentali come il nostro impegno contro il cambiamento climatico per la società aperta e il commercio internazionale libero.